. Barbara D'Urso stanca di Cecilia e Ignazio, l'ultima frecciatina per la coppia Pomeriggio 5, nuove frecciatine di Barbara D'Urso nei confronti di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. . Per l'ennesima volta nel salotto di Barbara D'Urso si è discusso della storia d'amore, nata al grande fratello Vip, tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. . In realtà la conduttrice non era intenzionata a parlare della coppia ma sono stati i suoi ospiti, e in particolare Viaggio Danelli, a tirare in ballo la vicenda. . Subito dopo ha preso la palla al balzo Milo Coretti, ex vincitore del grande fratello, che ha espresso tutta la propria solidarietà nei confronti di Barbara, che è stata accusata dai fratelli Rodriguez. . La replica della dottoressa John non è tardata ad arrivare, la presentatrice napoletana ha fatto sapere di non voler più parlare di questa storia. . Barbarella si è dichiarata stanca di certi argomenti e ha mandato più di una frecciatina alla sorella di Belen e al nuovo fidanzato. Le frecciatine di Barbara D'Urso non passano inosservate. Non mi va più di parlare di questa storia. . Tanto tra venti giorni non si parlerà più del grande fratello Vip, ci sarà lì sola dei famosi ha fatto sapere Barbara D'Urso al pubblico e agli ospiti in studio. . Le ex attrice ha rincarato la dose, tanto dopo rimarranno solo i grandi articoli come Malgioglio, Serena Grandi, Corinne Clary. . Gli altri non lo so. . . Tra una frecciatina e un'altra, la presentatrice ha riservato parole di elogio per Francesco Monte, con il quale ha instaurato un ottimo rapporto d'amicizia negli ultimi mesi. . 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